Uno scrigno di tesori in centro storico, Palazzo Cipolloni Cannella, uno dei palazzi di pregio del centro aquilano, ospita da qualche anno la Casa d'Astegliubic, una casa tutta aquilana che vede passare pezzi unici che hanno fatto la storia dell'arte italiana, aquilana e non solo. Manoscritti, ceramiche, dipinti antichi, arte moderna e contemporanea, in questo momento la casa ospita una collezione molto bella e interessante di design e arti decorative del XX secolo. 250 ai lotti interessati che saranno battuti, in esposizione sino al 23 maggio perché l'asta c'è il 24, pezzi che vanno dagli anni 40 agli anni 80 del 900, di autori importanti come Marco Bellini, Santiago Calatrava, Le Corbusier, Paolo Pininfarina e altri, pezzi che hanno fatto davvero la storia del design italiano, ma in galleria ci sono anche i tesori provenienti dalla Svezia e dall'Olanda e anche i lampadari soffiati a mano di Murano. Un argomento di incredibile interesse, uno perché fondamentalmente riguarda tutto ciò che ricordiamo anche noi, che abbiamo comunque oggetti che abbiamo posseduto, che abbiamo visto, e perché fondamentalmente si passa da tutto ciò che era prezioso nell'antiquariato, committenze importanti fino ad arrivare a degli arredi che grazie a questa rivoluzione fatta di colore e di esplosione, di forme, grazie anche alla produzione industriale riesce in qualche modo a coinvolgere tutti ed arredare a basso costo. Ci sono oggetti che poi hanno fatto la storia dell'arte sia di artisti italiani che stranieri e in quest'asta ne presenteremo alcuni per tipo già dalla lampada d'arco di Achille Castiglioni alla libreria El Beliero di Albini oppure altri nomi come Ettore Sozzas, Max Ingram praticamente con la sua illuminazione per quanto è stato la direzione artistica di Fontanarte. Ed è proprio il caso di questo Max Ingram francese che riesce con dei materiali poveri ma preziosi allo stesso tempo a dare luce e riflesso, a studiare la luce e il riflesso di questo materiale. C'è un lampadario e ci sono delle applique e ancora altri oggetti di estrema bellezza e forse gli oggetti anche più curiosi e più di valore.